Questa mattina il presidente dell'Avis Agropoli, Rosario Capozzolo, ha donato 500 mascherine chirurgiche all'Agropoli Cilento Servizi. Un gesto importante in un momento delicato come quello che si sta vivendo a causa dell'emergenza coronavirus. L'Avis di Agropoli è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, Ollus, costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. È un'associazione apartitica, a confessionale, senza discriminazione di razza, sesso, religione, lingua, nazionalità, ideologia politica, esclude qualsiasi fine di lucro e persegue finalità di solidarietà umana. Gli scopi dell'associazione fissati dallo statuto sono venire incontro alla crescente domanda di sangue, avere donatori pronti e controllati nella tipologia del sangue e nello stato di salute, donare gratuitamente sangue a tutti, senza alcuna discriminazione. All'Avis possono aderire gratuitamente sia coloro che donano volontariamente e anonimamente il proprio sangue e sia coloro che, pur non potendo per motivi di donietà fare la donazione, collaborano però gratuitamente a tutte le attività di promozione e organizzazione. L'Avis è un'associazione di volontari. Volontari sono i donatori e volontari sono i suoi dirigenti. L'Avis è presente su tutto il territorio nazionale, con una struttura ben articolata, suddivisa in oltre 3.000 sedi comunali.